In questo video vedremo 7 cose da comprare assolutamente se si vuole iniziare a fotografare matrimoni. In 12 anni di attività abbiamo imparato che ci sono alcune cose che non possono assolutamente mancare nella nostra attrezzatura, sia per garantire un lavoro di alta qualità ma anche per far fronte a situazioni impreviste. Una buona reflex o una mirrorless. Per ottenere immagini di alta qualità è importante investire in una buona fotocamera che sia reflex o mirrorless. È importante considerare il sensore della fotocamera, il sistema di messa a fuoco e la velocità dello scatto continuo. Infine considerate il budget e la marca della fotocamera, optando quindi per una fotocamera di qualità di una marca affidabile e che offra anche un buon rapporto qualità prezzo. Quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve per valutare le diverse opzioni sul mercato, per leggere le recensioni, guardare video e che più ne ha più ne metta. In più, quando vi state preparando all'acquisto della vostra prima macchina fotografica come fotografi di matrimonio, considerate anche questi aspetti. Comparate i prezzi. Prima di acquistare una fotocamera, confrontate i prezzi che si possono trovare da diverse fonti, come rivenditori online o negozi fisici, perché in questo modo potrete trovare il miglior prezzo per la fotocamera che desiderate. Considerate l'acquisto di fotocamere usate. Possono essere un'ottima opzione per risparmiare soldi, soprattutto se sono ancora in buone condizioni e se siete all'inizio. Cercate su siti di annuncio online o presso negozi di fotografia specializzati per trovare appunto delle offerte interessanti. Valutate anche l'acquisto di una fotocamera con caratteristiche adeguate alle vostre esigenze. Prima di acquistare la miglior macchina fotografica sul mercato, valutate attentamente le esigenze che avete, quindi scegliete una fotocamera con le caratteristiche adeguate di conseguenza. Non è necessario acquistare la fotocamera più costosa o con caratteristiche ultra avanzate se poi non le utilizzate. Acquistate l'attrezzatura in bundle. Spesso i rivenditori offrono dei pacchetti di attrezzatura fotografica con corpo, macchina e obiettivi a prezzi scontati. Quindi valutate l'acquisto di un pacchetto che comprenda la fotocamera, un obiettivo e magari anche altri accessori in modo da risparmiare soldi sull'acquisto dei singoli elementi. Una macchina fotografica di backup, sottolineato 20.000 volte. Avere una fotocamera di backup può essere molto utile nel caso in cui la vostra prima fotocamera, quella principale, si dovesse rompere o dovesse avere dei problemi durante il matrimonio. Una fotocamera di backup vi permette di salvarvi la vita e di continuare a lavorare senza interruzioni e senza perdere le foto. Ricordatevi che è importantissimo avere abbastanza tempo per familiarizzare con questa fotocamera di backup prima del matrimonio in modo da sapere come utilizzarla al meglio in caso d'emergenza. Quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve per imparare a conoscerla, per sperimentare magari con le impostazioni se sono diverse e fate degli scatti di prova, perché in questo modo sarete prontissimi ad affrontare qualsiasi situazione d'emergenza durante il matrimonio. Inoltre considerate anche l'acquisto di una fotocamera di backup che sia il più possibile simile alla vostra fotocamera principale, in modo da aver già un'esperienza di utilizzo molto simile e quindi non dover andare ad imparare un nuovo menu o di utilizzare una nuova fotocamera completamente diversa. E ricordatevi anche di avere tutti gli accessori necessari per quella fotocamera di backup, quindi in caso obiettivi, batterie, flash, qualsiasi cosa. Un flash esterno. Un flash esterno può davvero fare la differenza in situazioni di scarsa illuminazione, come ad esempio accade durante il ricevimento. Vi può aiutare a congelare l'attimo ad esempio durante i balli e a migliorare la qualità dell'illuminazione durante il taglio torta, se non è stata predisposta un'illuminazione adeguata. Quando si utilizza un flash esterno è importante scegliere un modello di una buona qualità e di una marca affidabile. E, cosa importante, imparate ad utilizzare il flash esterno in modo creativo, ad esempio inclinandolo o utilizzandolo in combinazione con altre fonti di luce per ottenere degli effetti interessanti. Delle schedine o memory card di grande capacità. È importantissimo avere delle memory card di grande capacità per poter scattare un maggior numero di foto senza dover interrompere il lavoro per cambiare appunto la schedina. Scegliete delle memory card di qualità, non risparmiate su questa cosa, e di una marca affidabile per evitare appunto dei problemi di lettura o di scrittura dei file. Alla fine se ci pensate le vostre foto risiedono in un pezzettino di plastica. Inoltre è importante fare attenzione alla velocità di scrittura delle memory card, quindi alla velocità con cui vengono registrate le foto nella schedina, perché una memory card con una velocità di scrittura elevata vi permette di scattare foto in sequenza senza riempire il buffer, il che può essere molto molto utile durante i momenti più concitati del matrimonio, come ad esempio l'ingresso della sposa nel luogo della cerimonia, il lancio del riso o anche i balli. Considerate l'acquisto di più schedine di grande capacità in modo da aver sempre una scorta a disposizione durante il matrimonio, perché non si sa mai. In questo modo potrete scattare tutte le foto che desiderate senza preoccuparvi di dover cambiare schedina o se dovesse rompersi avete le schedine di backup. Batterie di riserva. Anche qui avere delle batterie di riserva è fondamentale per non rimanere a secco durante il matrimonio, quindi assicuratevi di avere sempre con voi delle batterie di riserva per la vostra fotocamera e anche per il flash esterno. Scegliete anche qui batterie di qualità e di una marca affidabile per evitare appunto dei problemi di durata, quindi che non si scarichino subito e imparate a gestire al meglio l'utilizzo delle batterie durante il matrimonio. Ad esempio potete spegnere la vostra fotocamera quando non la utilizzate in modo tale da massimizzare al massimo la durata delle vostre batterie. Infine considerate anche l'acquisto di un caricabatterie di riserva o anche di un powerbank proprio per la vostra fotocamera, il che vi permetterà di ricaricare le batterie in qualsiasi momento durante il matrimonio. Al ricevimento ci sono sempre delle prese disponibili. Soprattutto all'inizio acquistate una lente versatile. Avere delle lenti versatili vi permetterà di affrontare qualsiasi situazione durante il matrimonio, quindi scegliete delle lenti che vi offrono una buona gamma di focali, come un obiettivo che parte da una visuale un po' più grandangolare per poi restringersi per effettuare appunto i ritratti, quelli più ravvicinati. Considerate però anche l'acquisto di lenti fisse, quindi a focale fissa, come ad esempio un 50 mm o un 35 mm, perché vi permetteranno di ottenere delle immagini veramente fantastiche e di lavorare in modo più veloce. Un obiettivo a focale fissa vi costringerà a muovervi di più durante il matrimonio per catturare le immagini, però vi obbligherà anche a essere più creativi e a pensare in modo più dinamico. E poi imparerete anche a sfruttare al meglio le vostre lenti prima di comprarne altre, sperimentando appunto con diverse focali e utilizzando le caratteristiche dell'obiettivo per ottenere gli effetti che desiderate. Una buona conoscenza delle vostre lenti vi permetterà di ottenere il massimo dall'attrezzatura che avete e catturare appunto immagini di qualità con quell'attrezzatura, senza spendere troppi soldi in attrezzatura. Una borsa per la fotocamera, è importantissimo per proteggere sia l'attrezzatura durante appunto gli spostamenti, ma anche per avere tutto a portata di mano. Scegliete una borsa che sia resistente, leggera e che sia comoda da portare, in modo da non dovervi preoccupare troppo della sicurezza dell'attrezzatura che avete all'interno. Considerate l'acquisto anche di una borsa che offre una buona protezione dall'acqua, così da poter lavorare anche in caso di pioggia e maltempo senza doverci pensare troppo. Inoltre scegliete anche una borsa che abbia diverse tasche o diversi scompartimenti, così da organizzare al meglio la vostra attrezzatura all'interno e aver sempre tutta portata di mano. E scegliete anche una borsa che sia comoda da portare, quindi magari una borsa a tracolla con gli spallacci regolabili, in maniera tale da essere più agevole quando vi spostate. Ragazzi abbiamo finito con le 7 cose da acquistare se state iniziando come fotografie di matrimonio, se avete domande scrivetele qui sotto nei commenti, ricordatevi di mettere un like al video se vi è piaciuto e di cliccare sul tastino segui per vedere tutti gli altri video che pubblicheremo. Noi ci vediamo al prossimo video!